Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Ed è arrivato il momento degli indi nazionali. Ecco le formazioni delle due squadre. Ecco le formazioni delle due squadre. E dunque, calcio d'inizio. Pallone alto nello spazio. Chiellini, Darmian, vuole la profondità. Insigne. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. C'è il retro passaggio. Occhio alla conclusione. Ottimo disimpegno, fondamentale. Primo tentativo dell'incontro. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Arriva il cross di De Rossi. De Sciglio. Buon lancio. Buon intervento difensivo. Tiro del tutto fuori in bersaglio. Gordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Stanno giocando un ottimo primo tempo. E si sono già creati due occasioni importanti. De Rossi. Effetto è lancio sulla fascia. De Rossi. Cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare la zona. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Passaggio in avanti. Palla larga e in profondità. Può calciare a rete. Occhio alla conclusione. Grande parata dell'estremo difensore. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Prova a saltare il centrocampo. Florenzi. Cerca la profondità. De Rossi. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. De Rossi. De Sciglio. Florenzi. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Lorenzo Insigne. Ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Prova a fare tutto da solo. Prosegue nella sua corsa. E la palla viene respinta. gioco una palla lunga. Prova la giocata nello spazio. Buon lancio. Ha la possibilità di andare verso la porta. e c'è il gol da l'Italia. Una conclusione assolutamente imparabile. ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. La scuola. 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 Grazie a tutti